Il nostro laboratorio è un po' come i punti laboratori Il nostro laboratorio è il nostro corso and so we are back again guys I'm coming to Edward I'm coming to New Bola in the Eurofermio Palasco in Malacca in Petro Binang in Roma can you see? and 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 we're here now because there's a book conference and it's called a field trip where is it? now we are going to go welcome welcome let's take the YouTube channel and you are filming I don't know we're filming yes we're filming che dai atti c'è un bambino Grazie a tutti sono un'errore, siamo qui qui ora sono venuto a Nubola c'è un'errore conferenzio sono un'errore ma è un'errore, però è ok ma sono bata che ci sono iniziare solo a Nubola e sono iniziare solo a Nubola qui si è il nostro è stato un'errore sono un'errore sono un'errore questo è il diazre veramente si ma intanto è qua è solamente si si e Paolo qui è il 2.0 quindi andiamo di nuovo sopra non c'è niente qua facciamo anche la ripresa da fuori no? eh si eh ti abbiamo fatto solamente un giro dobbiamo andare sotto il collegio sotto ci sta ancora un sotto questo non è il piano terra è il primo dove sta sotto? dove siamo soliti il primo vai andiamo andiamo sotto andiamo sotto sotto il piano terra è di là ma non so è sotto là se non viene però non vede che dite? come è stata? che cosa? cosa c'è? un altro bar ah un altro bar devo andare c'hai fame? mi compro un bar si ma cos'era 2.50 euro a tutto il bar a tutto il bar ma guarda qui sì che